che stanno cercando famiglia. Amici di Cane, Gatti e Compagnia, oggi vi abbiamo portato a Corte Franca in provincia di Brescia nella sede dell'associazione AIDAR, associazione italiana difesa animali randaggi. Siamo in compagnia della signora Benita Parente che fa parte del comitato esecutivo di questa associazione. Un'associazione, un gruppo di persone, di volontari molto attivi sul territorio bresciano per aiutare i cani e i gatti in difficoltà. Esatto, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per trovare casa a questi poveri animali che altrimenti non avrebbero grande speranza, insomma. Quando avete iniziato questa attività e quando siete riusciti a realizzare anche questa splendida struttura? Allora, la nostra associazione ha circa 13 anni. Abbiamo iniziato con pochissimo, qualche cane, anche gestito, e siamo stati aiutati da amici che ospitavano i cani e così via. Era il nostro sogno poter costruire, avere un posto dove ospitare gli animali. Non è stato così semplice all'inizio, ma nemmeno pensavamo di riuscire a conseguire. Però poi, a lungo andare, la situazione è venuta a crearsi e quindi ne abbiamo approfittato. Sono circa tre anni che abbiamo messo in funzione questa splendida struttura perché bisogna dirlo che è veramente comoda, con tutti gli agi, soprattutto per loro. e quindi stiamo cercando anche di aumentare in un certo senso la capacità di accoglienza per poi comunque ridistribuire a famiglie e donne quanto più possibile. Più che un canile, un rifugio, questo potrebbe essere definito una pensione 5 stelle, visto con questo verde tutta la pavimentazione. Esattamente, certo questo è il momento, è il periodo dell'anno in cui è un po' più brullo. Non c'è fioritura, non c'è niente, però insomma si intuisce che poi d'estate, primavera è tutta un'altra cosa. Gli animali hanno la parte riscaldata, per cui non soffrono completamente il freddo. Certo, ad alcuni potrete vedere, abbiamo messo il cappotto perché hanno pelo raso, per cui pelo raso, secondo noi, sentono più freddo per forza di cose. Un cappottino ci vuole, fatto dalle nostre stiliste. Sono alla moda, quindi. Sì, insomma, si cerca di colorarli, ma anche di rendere in un certo senso l'attenzione, perché è giusto, no? Con il cappottino orendono. Esatto. Le adozioni come stanno andando? Ci diceva che ieri è stata una giornata molto positiva, tanti cagnolini sono riusciti a trovare famiglia. Esattamente. È chiaro che le nostre maggiori soddisfazioni vanno quando viene adottato un cane che è qui da molto, però insomma non c'è da disdegnare nemmeno quello che è appena arrivato, ci mancherebbe. Un cane che va in una casa lascia il posto per un altro cane che invece la sta cercando, per cui per noi è sempre molto positivo. Diceva che forse è più difficile far adottare i cani cosiddetti da caccia. Esatto. Noi abbiamo anche in un certo senso una particolare tenerezza per questi cani, che sono molto declassati, perché definiti solo da caccia, per cui non meritano nessun altro tipo di attenzione. Mentre per noi meritano tutte le attenzioni del mondo, perché sono dei cani splendidi per la compagnia, sono stupendi per i bambini, sono dei cani docili, dei cani che non conoscono la reazione verso le persone, cioè non troverà mai un setter o un segugio o un altro cane da caccia che si rivolti verso la persona. E' un caso più unico che raro. E a questo proposito c'è stata una situazione in cui avete gioito proprio per un cane che ha trovato famiglia un segugio. Esatto, per Cino ne abbiamo parlato prima, perché era un cane che era più di un anno, che era qua e è arrivato con parecchie problematiche. Eppure, grazie al lavoro di tutti, ha recuperato molto e poi si è fatta avanti la persona giusta, una persona straordinaria ovviamente, perché pochi sono in grado di capire che hanno ancora margine di ripresa. Cioè, il cane è in continua evoluzione, non è che se ha dei problemi rimane fermo ai suoi problemi, basta che ci siano delle persone con buona volontà e il cane ha i problemi e li supera. Per cui, insomma, siamo stati veramente contenti. Qui ci manda sempre foto, siamo felici. Esatto, perché poi ovviamente voi rimanete in contatto, fate un grande lavoro prima dell'adozione, ma anche un lavoro post-adozione. E infatti, certo, l'internet ci ha aperto tantissimi orizzonti e ha dato possibilità a parecchi cani di trovare casa, perché ci sono persone eccezionali al mondo, grazie a Dio, ci sono anche quelle. Per cui, ecco, parecchi cani in difficoltà hanno trovato casa ed è stupendo, è una conquista. A suo avviso, quali sono gli ostacoli che le persone devono ancora superare per riuscire ad avere un ottimo rapporto con i cani, ovviamente, anche nella loro gestione? Ecco, per me sono due, due fondamentali. Poi gli altri sono piccole cose. La chiusura mentale per quanto riguarda la sterilizzazione in generale. Molti non vorrebbero che il cane fosse sterilizzato o castrato per tante motivazioni che sono sbagliate, sinceramente, sono veramente sbagliate. Mentre per il cane la sterilizzazione è una cosa fondamentale. Prima di tutto evitiamo che abbiano dei comportamenti indesiderati. In secondo luogo, a livello salute, è una soluzione ottima. E poi, insomma, per quanto riguarda noi, associazioni protezionistiche, vuol dire ridurre l'offerta. Per cui, riducendo l'offerta, c'è maggior gente che prende il cane di un anno, di due anni, anziché il cucciolo. Poi il cucciolo, ecco, altra parentesi, è l'aspettativa delle persone. Questi sono due punti fondamentali. La sterilizzazione è l'aspettativa delle persone nell'adozione del cane. Si aspettano che il cane possa interpretare i loro desideri senza avere a sua volta un input, un'impronta che noi stessi dobbiamo dare. Ma dobbiamo fare anche una ricerca, uno studio nostro, per carità. Non si tratta proprio di andare a scuola. Anche se in certi paesi d'Europa cominciano ad esserci queste scuole per chi adotta un cane, prima di adottarlo o, quando lo hanno adottato, sono obbligati a partecipare ad una scuola per alcuni mesi. Proprio perché tanti cani, tutti i cani, possono migliorare, possono diventare i cani ideali, ma con un giusto atteggiamento nei loro confronti attraverso il nostro lavoro, il nostro impegno, è la comprensione che possiamo avere. La maggior parte degli insuccessi nelle adozioni è causata dall'incomprensione, dall'atteggiamento, dalla lettura che noi diamo verso di loro, nel senso che loro leggono le nostre insicurezze e ovviamente le interpretano nel modo più sbagliato alle volte. Ma non è colpa del cane, è colpa nostra. Non è che io voglio darle martellate alla gente perché non è questo, però c'è una chiusura in queste cose che è un peccato perché se molta gente capisse che effettivamente basterebbe cercare di comprendere, risolverebbero tantissime problematiche. Invece più delle volte la prima difficoltà si getta là. Esatto. Oppure la vedono come un atteggiamento di non accettazione. Il cane non mi vuole. Ma quando mai? Cioè il cane non ha di questi sentimenti. Il cane può essere confuso perché giustamente si trova in una situazione che non conosce e non sa che cosa noi vogliamo da lui. E i mici? Quanti ne ospitate? Beh, con i numeri non sono mai molto brava. I cuccioli in questo momento non ci sono. Ci sono gli adulti e i mezzanelli, diciamo così. Per cui stiamo andando lentamente verso un piccolo momento di pausa per i gatti. E meno male perché dalla primavera avanzata all'estate è veramente un periodo di fuoco in cui certe volte facciamo fatica ad accettarne altri perché non abbiamo la possibilità di farli stare bene. Perché i gatti poi sono fragilissimi per cui non possono stare in un numero molto elevato. Si suicidano in un certo senso. Per cui cerchiamo di evitare. Ovviamente per gestire questa struttura e far stare al meglio i vostri ospiti siete in tanti volontari. C'è sempre bisogno però di ulteriore forza lavoro? Esatto, questo è tassativo. Diciamo che è l'anima dell'associazione, il volontariato. Un piccolo appunto che si può fare è che il volontario o il possibile volontario dovrebbe pensare che non si tratta solo di venire a coccolarli qua. Perché il loro benessere primario è la pulizia. È la cosa più importante. Prima vanno puliti e poi vanno coccolati. È chiaro che tutti vorremmo stare lì e fare le coccole, tutti quanti. Però in un ambiente sporco gli animali non stanno bene. Per cui insomma il volontario dovrebbe capirle queste cose. Perché tante volte mi sono trovata di fronte a delle persone che dicevano ma io vengo ma io voglio solo coccolarli, io non posso pulirli. Purtroppo non può essere puliti. Non è l'aiuto di cui avete bisogno? No, non è l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Anzi in un certo senso ci mettono i bastoni fra le ruote. Loro lo sanno bene. Loro sono una forza attiva ed efficiente. Per cui sanno che cosa bisogna fare. Prima vanno puliti. Poi si fanno tutte le altre cose. In effetti anche quando veniamo qua la mattina prima si puliscono tutti. Una volta che sono puliti mangiano. Perché devono mangiare nel pulito. Non c'è verso insomma. E poi queste cose durante l'arco della giornata vengono ripetute. Chiaramente non di fino come la mattina però insomma vengono puliti. Cioè stanno bene. Nel pulito stanno bene. Benissimo. Benita ci accompagna a conoscere qualcuno che cerca famiglia? Certo. Certamente. Liam è un cane, un setter di sei anni. Ha dei problemi comportamentali. Vedete che gira su se stesso. Ma non lo fa se noi siamo lì lo carezziamo o fosse in una casa. Cioè lui adesso fa così perché intanto sta aspettando di mangiare. Ma è un atteggiamento nevrotico. Capito? Questa che stress che devono... Che hanno subito questi cani. Allora, io devo dire che per lui è veramente una cosa un po' urgente se vogliamo, tra virgolette. Perché è un cane che nonostante fosse in un box più ristretto o con meno comodità, eccetera. Qua comunque non si è ambientato. Non si è ambientato in questo senso. Cioè non è ingrassato. Per quanto mangi non ingrassa. E poi povero... non trova riscontro... È dolcissimo, è bravo al guinzaglio e tutto quanto. Chiaramente insomma la gente vede che o gira intorno oppure se ne va perché ovviamente... Spaventato. No, ma non è neanche spaventato. Lui non ha paura della gente. Però non è un gran socializzato. Non è moltissimo che lo abbiamo. Per cui le persone per lui sono in questo momento quelle che gli danno da mangiare quello che le portano fuori a passeggio ma una famiglia vera e propria non l'ha mai avuto. Cioè la considerazione di questi cani che non hanno mai avuto un contatto una socializzazione con le persone è quella. Cioè non hanno aspettative per cui si comportano così. Sono come i bambini che sono stati in orfanotrofio. Non hanno questi legami affettivi. Per cui bisogna rinstaurarli. Ma non è difficile. Cioè non è un cane difficile. È solo un cane che magari ha sei anni per qualcuno per cui sei anni diciamo è già morto e così via. Non è così perché può arrivare ai 13, 14, anche 15. Chi lo sa. Lui è sano perfettamente. Gli abbiamo fatto tutti i test. Non ha niente. Mangia, sta bene, non ingrassa. Secondo me ha proprio bisogno di tranquillità di casa, eccetera. Lui è Oliver. Oliver è giovane, ha due anni, va per i tre. È stato un cane che ha vissuto fino a quando non è arrivato qua. Chiuso in un box, non è mai uscito a passeggio, niente. Non è stato nemmeno tenuto da un cacciatore. È stato tenuto da un allevatore. Probabilmente perché questa persona li vendeva, che ne so, lui magari quando era piccolo non era interessante, non l'ha venduto. Non lo sappiamo, non ci interessa. Noi i cani li prendiamo perché hanno bisogno, non stiamo a chiedere perché, per cosa, eccetera. È molto socievole, è buonissimo, è un cane splendido, è un carattere anche ottimo. Lui, nonostante appunto non abbia avuto niente, vede, alle volte è un po' come noi, no? C'è quello più introverso, quello più estroverso. Lui è un cane estroverso, un cane veramente adorabile. Per adesso non ho ancora trovato nessuno che sia interessato a lui. Ci dispiace molto perché è povero, è veramente un cane dolce. Ella è un cane di circa un anno. Mi è stata segnalata, era a Napoli, per la strada. Poi è stata messa in canile. E in questo canile è rimasta alcuni mesi perché, tra l'altro, visto che non tutte le persone che collaborano hanno il tempo e quant'altro, adesso con esattezza non le posso dire perché non siamo noi associazione ma sono altri volontari di altre zone che ci segnalano, eccetera. Comunque, insomma, se la sono fatta crescere in canile. Mi era stata segnalata che era cucciola, sembrava di taglia piccola. È una bella cagnolitta. È una bella cagnolotta, sì. Lei ha avuto probabilmente qualche problematica nella convivenza con gli altri cani. Inizialmente va d'accordo con i cani con i quali la si mette insieme. Dopo un po' comincia ad essere gelosa e ad allontanarli. Per cui adesso l'abbiamo lasciata in pace un attimino e solo da ieri perché è sempre stata insieme ad Oliver. Perché così almeno sta tranquilla lei, sta tranquilla un po' Oliver, poverino, perché non poteva venire vicino che lei lo allontanava. Quindi, insomma, sarebbe ottimo trovare chi avesse solo lei, solo lei come cane. È molto affettuosa, è affettuosissima, è molto brava con le persone. Non ha nessun problema con le persone, non ha problema con gli altri cani quando è in passeggiata. È un suo problema di possessività, che potrebbe anche quello essere comunque corretto con il tempo. Però inizialmente, diciamo, sarebbe meglio fosse da sola. Qua ci sono alcuni cani che hanno difficoltà ad essere adottati. Quella che abbaia furiosamente, ma poi è tutta scena. La più grande. La più grande. Ha un anno ed è molto buona. Era già abituata in casa. Mi si chiama? Amelia. Era abituata in casa, accettava anche i gatti. Per cui, insomma, è un cane molto buono. Poi, diventando troppo grande, se ne sono sbarazzati. Per cui, solito discorso, insomma. Poi abbiamo una meticcia, sempre spinone o giù di lì, che arriva da Roma, che ha otto anni. Si chiama Nina. Aveva un problema a un occhio. L'abbiamo operata due volte. Adesso va bene, insomma. Poi c'è una piccola bretoncina, che arriva insieme a quella cagnolina rossa con un po' di bianco. Vengono tutte e due da Napoli. Hanno vissuto sempre in una specie di recinto, abbandonate le loro stesse. E adesso, insomma, cercheremo di trovare loro casa. Poi, come al solito, c'è uno dei nostri segugi. Poverino, che anche lui ha un po' di tempo che è qua. Si chiama Jack, ha tre anni, viene da un sequestro e ha recuperato molto anche lui, perché era molto spaventato inizialmente. Però, insomma, adesso anche lui è in cerca di casa. Quella più scura, la rossa, goccia, viene da una situazione... Chiaramente lei non potrà mai raccontarci quanto le è successo davvero. Comunque è stata trovata in una cascina abbandonata, aveva appena partorito i cuccioli. Era inavvicinabile, adesso invece comincia ad avvicinarsi. La portiamo a passeggio. Ovviamente è un anno che ci stiamo lavorando dietro. E l'altro, Lampo, è un cagnolino di un anno, anche lui con dei problemi comportamentali dovuti al fatto, non ce lo può raccontare, però si intuisce fra le righe, che deve essere stato tenuto o legato a catena o tenuto in un giardino, in un orto mai a contatto con le persone. Perché adesso con noi si fida, ma con gli estranei ancora fa fatica fidarsi, nel senso che se noi ci avviciniamo, adesso lui ci viene incontro, si fa prendere in braccio, si fa portare a passeggio, fa fatica ancora andare a passeggio. Ma comunque sta imparando. Si scioglierà con il tempo, anche lì dovremmo trovare... E con l'affetto. Esatto. Anche lì dovremmo trovare una famiglia disposta a dedicargli del tempo, perché lui ha bisogno solo di quello, cioè di capire che nessuno gli fa niente. Quando capisce che nessuno gli fa niente, si adatta benissimo alla situazione. Adesso ci viene incontro, si lascia fare qualsiasi cosa, mentre all'inizio no. Lei è una gattina dolcissima, già stata sterilizzata e viene da una situazione di abbandono, vale a dire che era in una casa che ormai era prossima ad essere abbattuta e è stata lasciata lì, insomma, ecco. Anche Cajal è una gattina un po' riservata, però molto affettuosa, molto affabile. Anche lei è arrivata da noi, che è stata trovata vicino a un ristorante, con la cucciolata. Inizialmente non si avvicinava, invece adesso si lascia fare qualsiasi cosa. Come vedete, quando si avvicinano è perché si fidano, altrimenti non lo fanno. Lui, per esempio, è arrivato qua a Cucciolo. Non aveva quasi due mesi. E guardate quanto è cresciuto. Perché purtroppo quando era pronto per essere adottato, era il periodo delle vacanze, per cui non è stato adottato. Poi ne sono arrivati altri, perché quest'anno, avendo fatto caldo, le gatte hanno partorito fino a molto tardi. Per cui abbiamo avuto dei nuovi arrivi, più piccoli, che sono andati. Per cui, insomma, è stato così. E lui è diventato un pezzo da 90. Ma era un cucciolo. Questo vale per lui quanto per gli altri. Tipo anche quella, lei e lui, sono arrivati sempre insieme a lui. Tutti cuccioli, tutti appunto sui 45 giorni, affamati, raffreddati. Quindi, una volta che abbiamo finalmente finito di metterli a posto, non dovevano più essere adottati, perché, appunto, arrivava l'estate. Quindi la gente non adotta d'estate. Adotta quando è finito il periodo delle ferie, delle vacanze. Lei me l'hanno mollata vicino a casa. Abbiamo fatto fatica a catturarla. Ma non perché sia selvatica, ma perché era talmente spaventata che non si faceva avvicinare. Poverina, posso anche capirla che chissà che cosa ha visto in quel momento lì. Poi i gatti sono parecchi emotivi, per cui, insomma, non era al massimo. Comunque, insomma, adesso è qua. Lui è l'ultimo arrivato. È arrivato da non molto. Molto affettuoso, come vedete. Sì, qua sono quasi tutti domestici, gatti adottabilissimi, perché per carattere sono veramente domestici. Sono puliti. Adesso, mano a mano, stiamo castrando tutto quello che è rimasto, perché ovviamente se raggiungono l'età proprio matura della riproduzione diventa poi problematico perché cominciano soprattutto i maschi ad essere abbastanza sporcaccioni. Mentre castrati in tenera età, prima che manifestino, è molto meglio. Almeno, insomma, si evitano gli atteggiamenti indesiderati, tipo che si aggrappano le gambe, spruzzano in giro. Tanti maschi non lo vogliono castrare, poi però lo mollano fuori perché fa la pipì dappertutto, mentre noi non vogliamo che vadano fuori i gatti, perché poi finiscono malmenati, avvelenati, di tutto e di più, perché dà un fastidio ai vicini. C'è poco da dire. No, you won't do the same You wouldn't do the same Oh, you'll never do the same No, 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 no